Oggi è il primo giorno vero di formazione che coinvolge tutti i dirigenti e tutti i funzionari del Comune perché il nostro obiettivo è nel giro di pochi mesi di adeguarci con gli standard nazionali perché è chiaro il ritardo dell'amministrazione comunale che in questi anni non ha puntato alla digitalizzazione non si è adeguata anche alla normativa di riferimento quindi stiamo velocemente cercando di metterci al pari degli altri Comuni per poi spingere nei prossimi anni su un processo di digitalizzazione innovativo ecco questo è uno dei nostri obiettivi importanti proprio perché effettivamente sulla sfida del digitale oggi si gioca tantissimo in generale delle pubbliche amministrazioni ma anche dello sviluppo locale, dello sviluppo nazionale e in generale della ripresa sappiamo che appunto il PNRR ha una parte consistente di finanziamento sulla digitalizzazione noi vogliamo essere chiaramente pronti a raccogliere questa sfida e pronti a riuscire a presentare progetti chiaramente innovativi oltre che appunto assolvere quelli che sono gli obblighi di legge il processo di digitalizzazione è un processo che coinvolge la governance nell'ente nella sua interezza quindi sia nei processi organizzativi, nei flussi informativi interni e sia ovviamente nel rapporto con le altre amministrazioni, con i fornitori e soprattutto con i cittadini tanto che abbiamo già attivato e nei prossimi mesi metteremo tutti i servizi su uno sportello virtuale digitale attraverso il quale il cittadino potrà pagare tutto quindi potrà accedere a tutti i servizi, controllare tutta la sua documentazione e ricevere per esempio, inviare le istanze, ricevere anche direttamente il protocollo diciamo relativo a queste istanze quindi una documentazione diciamo totalmente trasparente e immediata con il cittadino